La provincia di Pescara tra le più calde in assoluto in questi giorni anche rispetto alla media nazionale. Ieri a Castiglione a Casa Aurea la colonnina è arrivata a 43 gradi. Non vanno meglio le cose nell'area montana e con picchi che arrivano a 30 gradi anche nelle località storicamente più fresche. Potrebbe essere l'estate più calda di sempre, dicono gli esperti, e intanto il mese di giugno è già entrato nella storia come il mese più caldo a memoria d'uomo. Come se non bastasse l'uso eccessivo di acqua per il caldo e le scarse precipitazioni dei mesi scorsi fanno registrare progressivi decrementi di portata delle sorgenti con l'ACA costretta a razionare l'erogazione. Sul sito ufficiale dell'ente le indicazioni per quel che riguarda il periodo tra il 12 e il 19 luglio con erogazione sospesa dalle 23 alle 6 in 20 comuni da Atria, Torre dei Passeri e riduzione notturna al 40% sempre dalle 23 alle 6 a Chietiscalo, Francavilla Alta e Pescara, ma già nei giorni scorsi molte zone, in particolare nel centro di Pescara, rubinetti a secco nonostante la presenza nella maggior parte dei palazzi di autocravi. Il solito tormentone estivo sui consigli utili, bere molta acqua, consumare tanta frutta e verdura ed evitare soprattutto per le persone più fragili di uscire di casa nelle ore più calde. Non sempre però risulta efficace, tanto che anche e soprattutto in questi giorni, il centro operativo del 118 si è visto arrivare diverse segnalazioni di malori, specie tra le persone più anziane e il codice calore approntato dall'Asda di Pescara si sta occupando, H24, di diverse patologie, prime fra tutte la disidratazione, ma anche edema da caldo e colpi di calore. Sul fronte meteo le notizie non sono particolarmente confortanti, la situazione non cambierà almeno fino ai prossimi giorni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.